Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti con un piccolo trucco per risolvere uno dei problemi più fastidiosi su Gnome Shag in presenza di driver Nvidia. Recentemente con l'aggiornamento di Gnome 40 è stata fatta una modifica nella gestione della matrice dello spazio colore. Una cosa che riguarda Mutter, questa modifica va a impattare sui colori come sono visualizzati in alcune configurazioni quando sono presenti dagli proprietari Nvidia e ci si logga nella sessione xorg. Come potete vedere, magari ve lo faccio vedere nella pagina, le tonalità sono sul rossiccio, non sono corrette. Di questo problema mi lamentavo io già da diverso tempo e me ne sono lamentato nel podcast, me ne sono lamentato praticamente ovunque. All'inizio mi davano del pazzo e pensavo fosse uno di quei soliti bug che affliggono soltanto il povero Marco Gennini. In realtà non è così e ho scoperto sul forum di Arch Linux che è un bug che affligge anche altre persone che stanno cercando di capire come risolverlo. C'è una soluzione momentanea, vediamo se metto a fuoco, eccolo qua. La soluzione momentanea è andare nelle impostazioni, andare alla voce colore e qui andare a modificare il profilo colore di default. Di default, vedete, viene riconosciuto tranquillamente il mio monitor e fa questo schifo. Ma basta fare aggiungi profilo, andare a impostare, ad esempio, lo spazio colore sRGB, aggiungerlo, ed ecco che i colori sono tornati al loro posto. Si può anche, ho visto che è anche una buona combinazione questa qui, spazio colore compatibile con Adobe RGB. Faccio vedere la differenza, c'è una leggera differenza, ma alla fine sembrano praticamente uguali, ora che li vedo bene da vicino. Comunque, basta impostare uno di questi due, spazio colore sRGB, e se avete questo problema dei colori che vanno a ramengo, vanno sul rossiccio, a causa di gnome shell 40, di mutter, di tutte quelle cose introdotte con questo disgraziato aggiornamento di gnome, sappiate che, appunto, con questa procedura che vi ho appena mostrato, quindi, ricapitoliamo, andare in impostazioni, colore, andate a modificare lo spazio colore aggiungendo lo spazio colore standard sRGB. Abilitandolo così facendo abbiamo risolto il problema dei colori che virano verso il rossiccio. In calce vi lascio maggiori informazioni su questo bug, vi lascio i riferimenti, vi lascio anche il ring dove ho potuto trovare questa soluzione. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ciao ciao!